Oder, azione Anzino, audio c'è sempre il suo sede l'unica cosa l'unica cosa l'unica cosa l'unica cosa che mi piace dire è che l'unica cosa dice che non si può fare nulla in questo paese e ha detto alla fine bello vai allora aspetta non si sa 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 allora due anni fa abbiamo fatto la dava e è stato non è bene non si sa 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 ragazzi ci ringrazio Ciao ragazzi, l'ascolto è stato un pirato, due anni fa, quest'anno ho riprovato a... ...perché il porto a voi... Nooo... Va bene, hai provato! Che dice? Che sta a loro strada! No, no, no... No, no... Ma è semplice, dai... ...è che se uno si mette insieme... ...perché se volete farlo, per questo posto in qualche carino in un paese... ...per cui non c'è speranza... ...e mi piace rende di vostra ecco...